Questo particolare lamellare che viene utilizzato per fare dei traversi sagomati tipiche delle finestre in centro storico. Qua lo vedi lavorato, precedentemente avevi visto il pezzo grezzo fatto in lamellare asimmetrico. Quel pezzo là, una volta che è stato troncato, una volta che viene fatta la lavorazione ai lati, viene poi sagomato. Questa macchina per dare la forma curva, la forma tonda.